E' adesso che sono arrivato, fin qui grazie ai miei sogni Adesso che ho capito come va il mondo, che cosa me ne faccio della sincerità E' adesso, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua Ci vuole abilità, eh già Il freddo quando arriva, poi va via Il tempo di inventarsi, un'altra diavoleria Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua E non c'è niente che non va Non c'è niente da cambiare Con il cuore che basta più forte, la vita che va e non va Al diavolo non si vende, si regala Con l'anima che si pende, metà e metà Con l'aria e col sole, con la rabbia nel cuore Con l'odio e l'amore, in quattro parole Io sono ancora qua Eh già Eh già Io sono ancora qua Ormai io sono vaccinato, sai Ci vuole fantasia Un sistema di dispositivi Di quali sono in grado di poggere le informazioni da lungo esterno Grazie all'interno di sensualistica Ma soprattutto sono qui si trova Che sono connessi con il concetto di media Questo concetto è fondamentale Per uscibile il cambiamento di strato autonoma per gli strutturi In Lustra 4.0 Prendo questa tecnologia per applicarla nella nostra attività E grazie a questa tecnologia Non ho avuto spesso l'unità per tuttavia Con l'attività, ma soprattutto la qualità del mio amore Con quello che non si dà Non ci vuole dire che ci sono i vantaggi e i svantaggi In questa situazione Il nuovo vantaggio è l'incorso di controllo dei processi Grazie alla multitudine che ci sono soldi Grazie a tutti che ci sono all'interno dei sistemi E un incremento del problema dell'innovazione Dato dal fatto che La Magetine non è un certo modo di programmare Un modo di impiare un piano E un piano Ci dà però un concetto Cioè il capitale del piano E il nostro sistema Deve essere un piano Ci sono gli altri sistemi E' una parte delle scussure 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 E' un punto di vista E' un punto di vista E' possibile grazie a questi signori Cogliere sia i dati necessari Al controllo dell'innovazione E tutti i dati che ci servono Per migliorare dentro Maestro l'innovazione Come linguaggio di comunicazione Tra i vari dispositivi Si può spegnere ogni tanto il pensiero Smettere almeno Di crederci per davvero E non essere più schiavi Per lo meno Di un'idea come di un'altra Di un mistero Sembra che non sia possibile Dimenticarsi di sé E giudicandoci ognuno Con gli altri Convincersi che Se non lo sai Buoni o cattivi Non è la fine Prima c'è il giusto o sbagliato Da sopportare Da sopportare Da sopportare Si può spegnere ogni tanto il cervello Smettere almeno Cattivi Non è la fine Prima c'è il giusto o sbagliato Da sopportare Da sopportare Che di per sé È maledetto Perché dividere Mentre qui tutto Dovrebbe solo dire Buoni o cattivi Non è la fine Prima c'è il giusto o sbagliato Da sopportare Da sopportare Buoni o cattivi Non è la fine Non è la fine Prima c'è il giusto o sbagliato Da sopportare Da sopportare Buoni o cattivi 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 Cosa importa se è finita e cosa importa se la gola è bruciata o no Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata Una splendida giornata, straviziata, stravissuta, senza tregua Una splendida giornata, sempre con il cuore, con la fina sera, che la sera non arriverà Grazie a tutti Ma che importa se è finita e cosa importa se la gola è bruciata o no Ciò che conta è che sia stata una fantastica giornata morbida Oh splendida giornata, che comincia sempre con la battività Oh splendida giornata Quante sensatori, con quali mostroni, poi alla fine ti travolgerà Oh splendida giornata Oh splendida giornata Oh splendida giornata